ciao a tutti ragazzi oggi vi farò vedere come ottenere l'armatura testitrice di scudi che è l'armatura che indosso io in questo momento per ottenere questa armatura bisogna ottenere innanzitutto 5 batterie e la prima vi faccio vedere adesso il video bene qui ragazzi siamo arrivati dove eravamo da piccoli caduti da piccoli posti questo punto qua della mappa rovine come vedete ok per ottenere la prima batteria che ci serve per completare la sfida secondaria e ottenere l'armatura che ho addosso io questa batteria si troverà dietro una porta che prima era bloccata dalle stalattiti voi con la lancia che avete ottenuto adesso potrete rompere queste stalattiti passare oltre e prendere l'armatura allora le stalattiti dovrebbero essere queste non capisco perché si sono riassustate voi le rompete e in questo punto qua troverete la batteria poi ci starà la seconda batteria che questo è il pezzettino dove vi fa vedere dove l'ho trovata eccoci qui dentro alla montagna della madre qua ragazzi troveremo la seconda batteria potete ottenerla o alla fine quando avete completato il gioco che potete entrare come quando volete tipo adesso come ho fatto io oppure quando voi praticamente dopo la sfida dopo la prova vi risveglierete qua dentro e dovete trovare una via di uscita trovare i vostri oggetti potete trovare anche la batteria ora però dovete trovare un cunicolo per entrare che non trovo perché l'avevo fatto nel video che l'avevo ottenuto subito ah eccolo qua ragazzi il cunicolo dovevo entrare nel cunicolo ah no esatto la porta è aperta adesso ok ho capito ragazzi vi faccio rivedere praticamente voi arrivate da qua da dentro la montagna voi entrate dalla montagna girate subito a destra andate avanti fino qua qua girate a sinistra e levati dal cazzo e qua troverete l'altra batteria che dovrebbe essere in questa posizione qua nel video quello che ho fatto io nel quinto video nella montagna della madre riuscirete ad arrivare qua per ottenere la batteria passando da questo cunicolo perché la porta era chiusa quindi voi siete entrati da qua avete girato intorno e siete arrivati a prendere la batteria la montagna della madre comunque si trova in questo punto ok ok una volta trovate quelle due batterie potete sbloccare il primo pezzo vedete l'armatura che indosso io voi l'avrete bloccata la in quelle morse di ferro ah scusate io mi trovo in questo punto della mappa quando in zona corsieri qui vicino a ascesa della madre in questa zona qua che è dove si trova l'antica armeria con l'armatura le prime due batterie che vi ho fatto vedere noi dovevo inserirla una qua e una da un'altra parte non ricordo dove poi qua ci sarà scritto un codice sopra c'è vabbè adesso non c'è più ma prima c'erano dei numeri gli orari e voi dovete girare queste manovelle in base all'orario che c'è scritto c'è una puttanata ragazzi non sto qua neanche a spiegarvelo una volta sbloccato il primo pezzo voi potete entrare nell'armeria però la tuta è ancora bloccata dovete spostarvi di qua e trovare altre tre batterie che poi riuscirete a sbloccare questo pezzo usando sempre lo stesso schema del ci saranno degli orari qua non mi ricordo cosa che una volta aperto spariscono e bisogna metterle nell'ordine giusto e così si riesce a sbloccare completamente la tuta e riuscirete a ottenerla le ultime tre batterie adesso vi faccio vedere dove potete trovarle sono degli spezzoni di video che ho fatto durante il gioco quindi non c'è proprio commento però vi lascio scritto tutto uno si troverà nella missione quella del oh stai calma te la fine del creatore la seconda al tumulo e la terza a daia prime vi faccio vedere intanto sulla mappa dove si trovano queste tre missioni alla fine del creatore la farete qui qui e adesso vi faccio vedere il pezzetto di video ok qua sopra c'è la batteria ok ce l'ho fatta chissà cosa scopriremo si è io bisogno della batteria io so che c'è una batteria qua nascosta vado a vedere perché io la voglio perché sennò non prendo più la tuta no quindi ragazzi arrampicandoci qui sopra dovremmo trovare la batteria c'è c'è con tutte le cose che posso dire in cima a sto cazzo di mondo ci troviamo esattamente in questo posto desolato da tutti da tutti ma chi cazzo mette una batteria lì in cima bene un'altra batteria se ne trovo altre potrei riuscire a raggiungere come naturalmente esatto ma chi cazzo le lascia lì in cima le batterie mamma mia che panorama che c'era però la sopra raga fantastico una volta ottenuta questa armatura questa armatura questa batteria farete la missione cioè quella missione presa la batteria finita la missione voi farete la missione al tumulo ho sbagliato ho sbagliato punto che è l'ultimo pezzo a nord di Nora che è in questo punto qua e adesso vi faccio vedere il video di dove si trova la batteria non si capisce tanto nel video ma ragazzi è lungo il percorso c'è la ve la trovate in mezzo ai piedi proprio impossibile mancarla un'ora di strumento e voce ancora l'eclissi deve esserci un'altra strada l'ultima e terza batteria della seconda zona la troveremo nella missione di... non si chiama Gaia Prime si chiama la montagna che cadde che è nelle rovine di Gaia Prime è dove sta un buco enorme insomma adesso vedete nel video e io l'ho presa prima però se fate il giro di tutta la mappa seguendo la storia comunque vi troverete sulla vostra... sta a destra la grotta che ho trovato io sulla mia sinistra e entrate in fondo e trovate la batteria insomma che è l'ultima devo andare qui qua per forza ok 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 e dagli è un saltino mamma mia queste cose che mi bloccano uh la batteria bella ragazzi questa dovrebbe essere l'ultima batteria necessaria per raggiungere quell'armatura antica ho preso tutte le batterie raga tutte le batterie troppo pro una volta ottenuto quelle tre batterie come avete visto nel video troverete qua posizionerete le batterie nei tre luoghi spenti fare... metterete il codice e automaticamente vi libera l'armatura e potete ottenerla se ragazzi vi è piaciuto il video lasciate un like se vi è stato utile lasciate un like anche per quello condividetelo per chi non ha ancora trovato l'armatura o per chi non sa come fare questa armatura ragazzi vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio